e beh a tutti e a tutti i ragazzi vediamo questo nuovissimo video oggi siamo 14 fornit oggi siamo qui nell'ultimo video delle missioni appunto del rift tour mi raccomando prendete il servizio e iscrivetevi alla campanella lasciate la commentata come vi vedete se non avete visto i video precedenti andate a vedere li trovate tutti sul canale mi raccomando andate su rift tour e mettete globale il 7 agosto alle 20 mi raccomando che ci sarà il concerto di rena grande probabilmente e lo andremo a vedere in live insieme vi ricordo che 3 di voi potranno partecipare con me nella mia lobby e guardarlo appunto insieme a me quindi mi raccomando dovete iscrivervi da oggi fino a quando ci sarà l'evento nelle live e nei video che vi volete prenotare per giocare con me sceglierò i 3 più attivi in questi 8 giorni appunto che saranno attivi sul canale e nelle live e i 3 che saranno più attivi li sceglierò per giocare appunto con me quindi mi raccomando guardate appunto gli altri video quelli che sono usciti oggi e non schippate il video guardatelo dall'inizio fino alla fine allora siamo qui nell'ultima missione usa una pedana olografica aliena sopra l'ufo da festa perché un ufo da festa non l'avevo mica capito si trova proprio qua sopra perché voi non lo vedete nella mappa ovviamente manco io lo vedo però è lì andiamo subito l'ufo quello che hanno aggiunto con la nuova patch diciamo sì una patch che in realtà non è una patch perché è la patch diciamo come dire come si può dire come si può dire non mi viene in mente è una patch così perché sarebbe la dovrebbe essere la 17.30 ma in realtà sarà la 17.21 una patch aggiunta così quindi ecco lì anche il timer per l'evento della di ariana grande ora andiamo a vedere subito dove si può trovare questo o coso che ci serve a noi che non mi ricordo bene dove si trova eccolo qui lo troviamo precisamente qua ci dobbiamo salire sopra ed ecco qua completata la missione completata la missione dobbiamo salire qua e dovete andare appunto sulla nuova sulla runa che hanno aggiunto oggi mi sembra abbandoniamo e ragazzi andiamo a riscattare l'ultima ricompensa di queste sfide rift tour e io spero che questo video vi sia piaciuto se così ci fosse iscrivetevi alla campanellina lasciate like, commentate, condividete mi raccomando non perdetevi tutti i video che usciranno da oggi fino a quando ci sarà l'evento e non perdetevi la live dell'evento abbiamo sbloccato micio nuvoloso uno sticker che non userò mai comunque noi ci becchiamo in un prossimo video bella ciao